Reazione nei confronti della mia scelta? Guardi, io ho ricevuto dei messaggi in cui c'erano alcune parole che mi sembrava volessero tutelare la mia persona, nel senso che diceva non lo fare, tutti diranno che lo fai per la poltrona, anche se io la poltrona ce l'avevo anche comoda, visto che dovevo solo obbedire a degli ordini, alzare e abbassare la mano quando era necessario. Quindi ho fatto una scelta che è molto più difficile, nel senso che devo esprimere il mio pensiero, le mie idee all'interno di un gruppo nuovo e condividere, cosa che prima non era possibile. Poi la reazione che ho avuto pubblicamente la sapete tutti.